Preghiamo insieme l'atto di affidamento del nuovo anno alla Madre di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. In questo inizio del nuovo anno invochiamo te, Vergine Madre di Dio, benedetta fra tutte le donne, primizia della creazione nuova, donna che manifesta meglio di chiunque altro la tenerezza di Dio verso le sue creature. Ti affidiamo il nuovo anno perché sia anno della fede, vero anno di grazia per tutti noi. Ciascuno di noi, le nostre famiglie, la nostra comunità parrocchiale, i gruppi e le associazioni di cui siamo parte viva, la Chiesa intera. Sia un anno in cui viviamo la vita buona del Vangelo perché nelle sue parole troviamo la grazia della parola eterna, quella parola che nel tuo grembo si è fatto uomo e nel tuo cuore si è fatta amore per tutti i tuoi fratelli. Sia un anno della fede perché tutti ci prendiamo cura di noi della grazia che abbiamo ricevuto nel battesimo e confermato nella cresima per realizzarlo poi in una specifica vocazione, in una chiamata al servizio come Dio. Sia un anno in cui operiamo per una fede che è dono, libera e generosa adesione a Dio, che ci ama con la stessa tenerezza con cui ha amato te, creatura nuova per farne un dono all'umanità intera. Tu sei speranza per tutti noi perché desideriamo arrivare dove tu sei arrivata, camminare nelle tue orme, imitare la tua fede, ripetere il tuo eccomi e vivere la gioia della benedetta fra tutte le donne. Questo ti chiediamo per noi e per tutti gli uomini su cui invochiamo il dono della pace, della giustizia e della salvezza, perché hai portato in grembo e donato la parola che si è fatto salvezza di tutti, ma proprio di tutti. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Madre di Dio, Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti.